ah bene ma che cosa è addirittura ma mario che si muove come cash bello bello è mario 6 il famoso mario 6 atteso è il galaxy 3 è meno male poracci bentornati o benvenuti sul porocast l'unico podcast di internet.poro dove si parla di videogiochi questa volta in compagnia allora io sono emozionatissimo perché siamo arrivati alla seconda puntata ma in realtà questo episodio 1 e al tempo stesso una prima volta perché finalmente siamo riusciti ad avere un ospite un ospite d'eccezione e visto che oggi si parlerà di platform di goti 2023 e non solo è anche roba playstation sono riuscito a trovare l'ospite perfetto un content creator che tampino da tantissimo tempo e finalmente sono riuscito ad avere qua sul canale quindi diamo un caloroso benvenuto non so come fare però insomma fatelo esultate davanti davanti al vostro device e date un benvenuto a enrico 0dx ciao a tutti o super ciao come dicevo fino a un po di tempo fa ciao poro sono veramente felice di essere qui con te con voi nel porocast ci avviciniamo ancora di più e tra l'altro metto subito le mani avanti allora ci abbiamo avuto un sacco di sfiga perché dovevi essere già l'ospite della puntata 0 io dovevo essere la puntata 0 essendo 0dx benissimo era perfetto invece mi è esploso internet e quindi abbiamo dovuto rimandare va bene ma se ti può far star tranquillo questo ancora non te l'ho detto 10 minuti prima del dell'inizio della registrazione mi ha frizzato la telecamera come non aveva mai frizzato ma c'è qualcosa che sta remando contro di noi di sicuro succederanno disastri e questo comunque è il motivo per cui mi chiamo poro Michele perché non è il poraccio è proprio la sfiga ogni tanto che si può fare niente bisogna solo accettare e abbracciare le nostre sfortuni sì 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 fortunatamente comunque è un format che si può fruire anche in formato audio quindi insomma se ci fossero eventuali frizzati telecamera neanche ce ne accorgiamo esatto anzi invito tutti quanti a guardare questo video a occhi chiusi per avere tutto giratevi dall'altra parte esatto senti allora che ti ho chiamato qua non lo so allora io trovo sempre molto cringe dover far introdurre le persone quindi ti metterò direttamente a disagio dicendo Enrico è il più grande esperto in Italia di Crash Bandicoot di Crash Bandicoot pensavo dicevi playstation no non è vero Crash Bandicoot mi sono ritagliato un mio spazio diciamo su youtube dedicato a Crash infatti quando faccio video su Crash la gente li vede quando faccio video su Crash la gente oddio non lo voglio vedere questo video va bene va bene purtroppo è la condanna è la condanna del legarsi a un a un fandom specifico però c'è da dire che io in realtà fruisco i tuoi contenuti da tantissimo tempo veramente cioè nella mia testa sei uno tipo dei big di youtube sì perché ho iniziato tanti anni fa in effetti poi mi sono spostato su videogiochi per ora sto qui vediamo un po' però effettivamente sì tra l'altro anche la mia ragazza ti conosceva già da prima che sì sì per le canzoni pensate quindi proprio mi fa ma Enrico 0x sì ma quello perché lei è fissata con queste cose quindi ti conosceva e mi ha pure cantato una canzone ha detto vabbè ok quindi hai lasciato se non altro hai lasciato il segno anche all'info di me ho lasciato il ricordo certo no però a parte di scherzi fruisco da da parecchio tempo dei tuoi contenuti ho sempre apprezzato una cosa che io per esempio non ho una cosa che mi manca è la capacità di analizzare nel dettaglio diventare quasi ossessionato da da un titolo e non annoiarsi nello spolparlo pixel per pixel ok mi ricordo quando è uscito Crash 4 questa cosa mi rimarrà sempre in testa che hai passato tipo la prima mezz'ora proprio nell'area iniziale ah in quel senso lì sì 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 no no ma il vivere una cosa proprio in in modo io sono fissato ma perché io lavorando con i video sono anche un po' animatore diciamo no cioè mi piace proprio fare le animazioni le cose quindi lo sempre studiate queste cose qua e nei videogiochi soprattutto le animazioni i dettagli più piccoli proprio li vedo li vivo e per me sono importantissime quando io mi sono incazzato per Crash 4 perché ha la panciata animata male è una cosa che sento seriamente perché effettivamente è un è un difetto e tanta gente invece buon per loro non le nota queste cose e riescono a passarci sopra più tranquillamente per me invece sono sono ostacoli sormontabili e beh questa è questa è una è una capacità di analisi che io apprezzo tantissimo e però comunque anche io apprezzo le tue cioè anche te fai delle analisi che io per esempio non riuscirei a fare quindi vedi ognuno ha le sue sì sì no ognuno ognuno c'è il suo ma e poi il senso di questo podcast è proprio questo no cioè riuscire a scambiare punti di vista diversi su su un argomento che poi magari si arriva alle stesse conclusioni però comunque no no non si arriva mai alle stesse conclusioni si intreccia sempre bello il confronto serve a questo tra l'altro visto che comunque io ti ho mandato una scaletta ma io le cose le devo fare a caso completamente a caso non mi ricordo più la scaletta che è esploso internet sei volte quindi perfetto perfetto va bene così io mi visto che ti ho chiamato principalmente per parlare di super mario bros wonder esatto ecco qui mi riaggancerei guarda che colori c'ha questa storia bellissima già l'artwork fa tantissimo comunque è impressionante l'hai ricevuta la palla la palla antistress no 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 io che quello è un miraggio comprato su nintendo store quindi c'era le spille la palla no eh no perché c'è stato un certo qui c'è già partiamo per la tangente all'inizio se se prendevi il mega pack con tutti quanti no 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 c'era la base di una di una palla antistress a forma di mela mela elefante ah no no però a un certo punto è sparita l'hanno tolta hanno detto no non possiamo più farla e non non si è capito se a qualcuno l'hanno inviata o meno però vabbè insomma questa è una è una tangente collezionistica farà tantissimo su esatto è quello a te sei un collezionista beh sono allora per certe cose sono proprio sono proprio fissato non tanto per i gadget però compri tutte le limited edition di zelda mi pare tutte le svizie allora con le limited piano piano diciamo dal periodo xbox 360 playstation 3 mi sono ho iniziato a lasciar perdere perché non non mi fanno impazzire più di tanto poi diventa anche un problema di spazio soprattutto non mi piacciono le figure quindi non è che quindi non sento l'impellenza però avere il gioco fisico il l'edizione particolare soprattutto roba retro gaming vabbè sono cose che mi fanno che mi fanno impazzire no io invece ho poi poi si smetto di rompere no 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 vai 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 ho una caratteristica che io voglio se devo collezionare i giochi voglio l'edizione base io non la so perché non lo so perché cioè preferisco uno scaffale solo con l'edizione base con tutte le costine poi messe eh sì 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 ti capisco ti capisco perfettamente ma lato al contrario no ma poi soprattutto con i sistemi appunto legacy quelli retro gaming eccetera eccetera sì sì tutto che le le custodie cambiavano di generazione in generazione non c'era il dvd case ma che ne so appunto playstation ah giusto cambiavano quei big box neri così secondo me anche quello è molto è molto affascinante sì sì che vivi proprio l'evoluzione proprio del del concepimento del packaging sì sì è pazzesco pazzesco proprio però guarda no è pericolosissimo perché sennò parlo di questo per due ore e non voglio rubarti non voglio rubarti all'altro presto finiranno penso i supporti fisici esatto infatti faremo la live la chiacchierata di il funerale il funerale delle edizioni fisiche ci ritroveremo qua no però volevo legarmi a quello che hai detto prima per me l'animazione è importantissima è un dato fondamentale proprio nel nell'esperienza videoludica è una cosa è già il primo ostacolo no se una cosa è animata bene e è animata come dovrebbe essere animata soprattutto per te che sei un super appassionato in quel caso di crash hai ancora più l'idea molto più chiara di come dovrebbe essere fatta una cosa penso che questa cosa qua mi sia stata trasmessa proprio all'inizio dai primi crash che nonostante fossero fatti con delle risorse limitatissime sia di budget di hardware erano animati in una maniera erano molto espressivi è vero e uno che cresce con quei riferimenti lì è normale che poi oggi la panciata ha fatto male la nota su e appunto proprio per questo vedere un titolo come Wonder a cui magari non sei così affezionato a livello di sentimentalismo dei giochi passati eccetera eccetera ma vedere un tale livello di qualità delle animazioni già quello fa il gioco io sono convinto di questo già quello fa il gioco e considera che io sono andato su youtube a guardarmi frame per frame l'animazione di Mario quando entra nel tubo e perde il cappello e c'è la maniera l'ho vista frame per frame per vedere come l'avevano fatto è incredibile c'è una cura che non ho mai visto in nessun Mario 2D cioè in 3D sì ovvio ma nei 2D proprio si vede che hanno detto ok basta tagliamo facciamo qualcosa che sia magari l'altezza dei 3D tra l'altro l'entrata nel tubo è una delle cose più iconiche se vogliamo ma è anche stato uno dei salti in avanti più impressionanti per questo Wonder perché fino al al New Super Mario Bros. U Deluxe che insomma è l'ultimo 2D uscito e l'entrata nel tubo era ancora quella perpendicolare cioè entrava senza senza animazione capito diciamo sì è un omaggio è un omaggio sì è un omaggio però infatti sono contento che in Wonder abbiano tolto tutti i riferimenti 8-bit i suoni 8-bit che da una parte ok la nostalgia però secondo me ormai era una roba proprio a fine a se stessa è vero però al tempo stesso e queste poi sono le cose che magari gli appassionati notano è pieno di animazioni che erano presenti in pixel art è che poi nel corso degli anni si erano perse tipo il fatto che quando salta c'è il cappello che si muove non so se ci hai fatto caso se salta in verticale c'è il cappello di Mario che si muove leggermente e quando riatterra è come se arrivasse un secondo dopo quelli là sono praticamente era se non sbaglio dovrebbe essere o nel World o in Super Mario Bros. 3 però nel senso non è che hanno ripreso quell'animazione l'hanno rifatta per ricordare quella cosa e infatti secondo me una delle cose migliori che hanno potuto fare è che il citazionismo non è mai fine a se stesso ma è un qualcosa sempre di giustificato all'interno del contesto che poi ti rimanda appunto a se c'hai l'occhio abituato ti rimanda a quel determinato citazionismo ma altrimenti è una cosa che funziona benissimo anche di per sé non è che guardi Wonder però per capire la grandezza visiva di Wonder devo avermi giocato sicuramente ci saranno un sacco di riferimenti che io non ho colto non essendo così ferrato sui giochi 2D soprattutto quelli vecchi anche se l'ho provati però non è che ci sono che sono cresciuto con Playstation non con Nintendo quindi sì Wonder World l'ho giocato bellissimo però non saprei ricogliere questi riferimenti eppure mi è piaciuto e ti dirò di più per me le animazioni sono pazzesche ma ancora di più parlo da ignorante del settore è proprio i colori i colori sono i colori sono pazzeschi non so tu sono misurati sei arrivato proprio alla fine 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 non ho fatto i livelli speciali ancora perché ci vuoi fare dei video però ho finito il gioco ok ci sono comunque delle soluzioni cromatiche nel verso il finale che proprio vedi quei colori che ti riempiono la vista non so non so come dirlo tutto bilanciato perché ti rende proprio proprio felice è pazzesco perché ci sono colori che a volte pur stando bene insieme ti danno troppo contrasto invece proprio in Mario Wonder si vede che sono studiati al millesimo sembra quasi ci abbiano messo un filtro sopra che gli toglie i colori che contrastano troppo da quanto che è fenomenale non ti stanca mai la vista sì sì e poi la cosa Crash 4 uno dei problemi di Crash 4 è proprio che tanti livelli hanno questo problema pur avendo dei colori belli tante volte sono troppo accesi troppo marcati troppo contrastanti e quindi alla fine ti affaticano la vista e magari vengono anche a noia immagino cioè sì sì non ti danno mai quel senso di bellezza di pienezza molto astratte perché è difficile si parla di sensazioni quindi è difficile spiegarle però insomma quando non è la prima volta che mi trovo a parlare di questa cosa riguardo a Wonder quindi vuol dire che è una cosa che si percepisce sì 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 sicuramente e poi ti ripeto per me già imbrocchi come si dice a Roma questa cosa già prendi questa strada già la presentazione è così e a quel punto il gameplay forse passa anche in secondo piano poi ha un gameplay però il primo impatto il primo si come posso dire nel momento in cui hai fatto le animazioni hai fatto i colori secondo me il sistema di movimento si adatta a questa a questa sì io mi sono accorto rigiocandolo in questi giorni che appunto l'ho finito e rigiocando i primi livelli mi accorgo che non ho più quell'impatto che ho avuto la prima volta che sono rimasto a bocca aperta mi ci veniva da piange ma mi trovo di più davanti a un gioco che ok è facilino è semplice perché appunto ti sei abituato a quell'impatto lì che però Mario Wonder ti dà proprio perché evidentemente prima di Mario Wonder nessuno aveva dato questo senso proprio di freschezza di di bello di di paradisiaco veramente che ha già fatto quando prendi per la prima volta il seme insomma la palla elefante diventa elefante e vai nell'acqua e prendi ti va l'acqua nella proposta la butti in terra escono i fiovi non lo so non lo so sono sono rimasto veramente ho fatto con un short sono rimasto mi ci veniva da piangere però non posso anche perché poi la buona riuscita di un platform si gioca tutta nel livello 1-1 se tu nel primo livello del primo mondo riesci a comunicare in modo efficace un po' il senso di tutto quanto il gioco hai già vinto parti con il colpio del giusto e in questo Wonder riesce riesce molto bene però appunto se non ricordo male in realtà è sempre sì sì è un è qualche livello un po' più noiosino magari verso nel mondo del deserto qualcosa ok anche di quello ti voglio ti voglio chiedere delle cose però intanto passerei un attimo a una cosa secondo me interessante può essere un parallelo interessante con l'ultimo crash con crash 4 ah pensavo che sti rambo no 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 per quello quindi è effettivamente crash 5 no 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 sto scherzando sto scherzando a livello di difficoltà mi sembra di capire no che uno dei punti che più ha fatto discutere di crash 4 è stata proprio la difficoltà e soprattutto la difficoltà del post game cioè se vuoi puntare al completismo diventa un qualcosa di vai vai spiega tu perché io non l'ho giocato buonissimo ah ok cioè crash 4 di per sé non è proprio difficile però è frustrante nel senso che ti nasconde tante cose ti nasconde ti impedisce il più possibile il completismo e ovviamente anche il fatto di aver messo trappoli assurde che ti fanno morire ogni 10 secondi salti che se non li provi non puoi farli perché non li puoi fare se non hai prima cioè c'è proprio un trial and error troppo marcato il problema maggiore di crash 4 è proprio che hanno ostacolato il completismo nel modo più assoluto e il problema è che un platform lo giochi proprio per andare incontro al completismo e nel momento in cui questa cosa ti manca il gioco ti stressa ti frustra tantissimi mi hanno scritto dicendo eh ma io l'ho droppato non l'ho finito perché questo gioco non mi divertiva ma diciamo è una cosa dove te non sei neanche disposto a vedere eventualmente guide o nel senso tu come giocatore se devi ricorrere a una guida o vai a vedere un video walkthrough per capire come si fa un pezzo la ritieni come una sconfitta oppure lo fai e dici vabbè in senso si può fare in crash la vedo come una sconfitta infatti è capitato che per trovare delle gemme nascoste di crash che sono nascoste proprio senza il minimo indizio alcune l'ho dovuta cercare su youtube mentre in altri giochi come può essere uno zelda o altro non la vedo più come una sconfitta non so come effettivamente è una bella domanda in crash secondo me dovrebbe è il game design che dovrebbe aiutarti a risolvere gli enigmi se non ci arrivi perché proprio è difficile perché è un limite tuo allora cerchi la guida ma se il limite non è tuo e te ti rendi conto che proprio non hai motivo di sapere che laggiù dietro un barile c'è una scatola che ci hanno messo che se non sai che c'è non la puoi trovare lì è un problema chi ha fatto il gioco non io quindi forse è questo il discorso quando mi rendo conto di essere io a non capire quello che il gioco mi vuole proporre allora cerco la guida e non mi sento stupido se invece il gioco che è cattivo talmente cattivo bastardo nel non farmi capire perché in tutti i modi non vuol farmelo capire allora io mi sento obbligato a cercare la guida e mi passa la voglia vedi mi sono spesso un po' male no 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 l'ho capito perfettamente ma anche io sono così cioè è ovviamente una domanda che non è una risposta univoca dipende dalla situazione in situazione penso per esempio a Mario Odyssey io l'ho completato al 100% non ho cercato se non per una cosa perché mi era proprio mi aveva fatto impazzire però vabbè quello là è un altro risposto però al tempo stesso avendo giocato tantissimi GRPG da giovane in realtà quello là è un tipo di gioco che vuoi o non vuoi te lo dovresti giocare con la guida sulle gambe perché molte molte cose sono perdibili no e in un gioco che ti dura un centinaio di ore a me l'idea di essermi saltato un l'arma finale perché ho aperto quel che non avrei dovuto aprire perché non si sa perché e poi significa mi dovrei fare una seconda run io quindi i GRPG io me li sono sempre vissuti un po' con l'ansia del oddio ma se mi sto perdendo qualcosa infatti io nei giochi per esempio come gli Uncharted dove hai magari due percorsi io cerco sempre di capire ma piano piano faccio un passo lordo ma qui sto andando avanti o sto andando avanti poi puntualmente vai avanti e non puoi tornare indietro e rosichi tantissimo tantissimo sì sì è vero però là appunto forse là è proprio è level design è il design che ti dovrebbe far capire o cioè se vogliono se il designer te lo vuole far capire qual è la strada principale si riesce a capire perché quando una strada è troppo lunga allora probabilmente stai andando avanti se invece dopo un tot percorso non hai trovato nessun segreto e allora appunto secondo me è interessante pure capire questa cosa riguardo a Wonder visto che abbiamo parlato appunto di uno dei punti dei difetti principali di Crash 4 che è questo completismo spietato sì vabbè però diciamo appunto la lunghezza dei livelli è eccessiva esatto perfetto vuole andare proprio qua Wonder è esattamente l'opposto è esattamente l'opposto perché livelli cortissimi hai un'idea per livello sono corti sono cortissimi hai un'idea che ti viene presentata non sempre viene sviluppata come magari vorresti perché sono idee fighe e dici vabbè magari adesso ci fanno qualcosa altro no si passa subito oltre si va avanti io ho notato che per esempio alcuni livelli complessi come l'ho giocato in live tanti livelli magari mi tenevano occupato anche 10 minuti 20 minuti perché morivo poi magari perdevo una cosa e lo dovevo rifare nel rifarlo lo tiravo via proprio magari prendevo un gettone che avevo lasciato e il livello mi durava quindi è proprio corto però a certi punti in cui sono in cui è bello condensato di cose da fare quindi ma infatti per la prima volta hanno tolto il timer all'interno dei livelli perché secondo me hanno progettato proprio questo hanno detto facciamo dei livelli corti dove però ti devi prendere il tempo di esplorarli di capire io onestamente non ho mai capito il timer ma nemmeno nei giochi vecchi l'anni 90 non ho mai capito il senso del timer cioè poteva avere senso quando era un gioco a sala giochi che devi mettere il gettone tipo su Super Nintendo che senza fare punti anche quelli punti perché poi appariva la classifica con gli amici però si vabbè diciamo era l'unico incentivo possibile al replay al sì sì oddio però il fatto che quando muori ti viene sbalzato fuori dal livello quello fino a cinque anni fa era ancora così su Mario lo so 3D World non lo faceva questa cosa no no mi sembra di no però appunto con Nintendo che alla fine sono sempre dei grandi innovatori in tante cose che fanno invece ci sono altre che rimangono dei ritaggi vecchissimi che magari poi si tolgono si sono tolti appunto nel 2023 è un po' è un po' paradossale però io ti devo dire questa cosa del dei livelli l'ho apprezzata ma adesso che mi sto allontanando un po' emotivamente dal gioco quindi non sono più super preso forse mi sarebbe piaciuto un tipo di approfondimento appunto che alzava un pochino l'asticella della difficoltà nel momento in cui un'idea me l'hai presentata mi hai fatto vedere che è una figata che ci si può giocare tanto sopra il fatto che tu nel livello dopo passi direttamente a un'altra cosa quello è un non bene perché non ti annoi mai però alla fine ecco di Wonder mi è rimasta più la sensazione generale di essermi divertito tantissimo che l'effettivo ricordo di quel livello di quel passaggio perché è un po' mordi e fuggi e rischi di però al tempo stesso Mari posso dire siccome sono vecchio un po' rincoglionito fra sei mesi me lo rigioco ed è praticamente una blind run perché non mi ricorderò assolutamente nulla questo dipende anche molto da uno come lo vive il gioco penso che inevitabilmente influisca anche l'età molto probabile che se tu l'avessi giocato a otto anni forse ti ricordi questo è un livello è una cosa su cui sto cercando di arrendermi anch'io perché mi rendo conto che ma come anni fa mi ricordavo tutto ora invece gioco un gioco è vero che anche secondo me è sembrato un po' troppo veloce un po' troppo facile anche perché l'hanno riempito di troppi intermezzi troppi livellini piccoli e ora bisognerebbe fare un conto ma sono veramente troppi troppi intermezzi che servono sono bonus più che altro speravo a un certo punto che la complessità di anche gli intermezzi aumentasse un po' e invece no restano sempre rimane sempre così quello effettivamente ma guarda alla fine la sensazione che rimane è quella del è stato un po' un gioco che è un grandissimo flex siamo in grado di fare questo abbiamo tutte queste idee ma diamo e potremmo fare cento volte di più potremmo fare cento volte tanto ma per ora vi prendete questo che è un po' è un po' un antipasto di tutto quello che esatto dall'idea di un antipasto comunque di un gioco minore volutamente poi chiaro no sto sto esagerando cioè nel senso sto esagerando perché rimane comunque un gioco no 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 fatti fatti il suo lavoro è assolutamente meraviglioso appunto però finendolo dici ah ok e ora cosa faccio poi l'endgame non è che ci sia a parte questi livelli speciali che però appunto non ho ancora fatto può darsi che siano incredibile vabbè allora ne riparliamo ne riparliamo dopo che hai fatto l'ultimo ultimo io mi aspetto però almeno spero che facciano un DLC guarda nelle ultime nelle ultime iterazioni di Mario in 2D hanno sempre messo dei DLC secondo me potrebbe essere intelligente se è vero che l'anno prossimo si inizierà a parlare della prossima console eccetera eccetera fai un un repackaging del gioco con DLC no vabbè nel senso se è retrocompatibile magari se è retrocompatibile ti compri il DLC altrimenti se entri per la prima volta nell'ecosistema Switch Switch 2 ti ricompri per la prima volta Super Switch Super Switch in realtà io spero che l'anno prossimo possa arrivare un nuovo Super Mario 3D beh arriverà quando ci saranno pronti per presentare la nuova console quello sicuramente lo mettono lo mettono nel primo anno di commercializzazione perché insomma sono passati anche anche parecchi anni ci sta ma adesso non avrebbe non avrebbe senso e là soprattutto si si gioca un po' sì 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 certo non si vorrà ripetere la magia del 2017 che Switch aveva sia Zelda che nel primo anno ah no no beh che sono allineamenti astrali veramente cioè dai però a proposito di allineamenti astrali hai visto ieri insomma non so quando verrà pubblicato questo questo porocast ma ieri sono usciti i denomination per i goti 2023 e secondo me vabbè il discorso è gigantesco però che effetto ti ha fatto vedere un Mario 2D tra i potenziali dei vincitori del gioco dell'anno non me l'aspettavo non me l'aspettavo che l'avessero nominato in qualche categoria ero sicuro ma che l'avessero nominato anche proprio proprio fra i goti non me l'aspettavo non credo possa vincere Super Mario no allora vincere credo di no intanto ti condivido un attimo una scheda piano piano anche proprio la schermata delle nomination sì voglio farti una cosa secondo me ancora più interessante ecco ci mettiamo qua il desktop con il Gamecube sì ovviamente ovviamente no no questo è sempre Streamlabs allora nel corso degli anni questi qua sono i dieci anni di nomination per i The Game Awards ok la cosa che mi ha sorpreso anche a me è che in realtà c'è sempre stato spazio per un po' l'outsider ok poi nel 2015 tra l'altro tra i sei potenziali vincitori c'era Super Mario Maker ma come il primo nel primo sì 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 quello per per Wii U quindi in realtà Fascal Airstone Airstone nel 2014 come Airstone vabbè ma anche Shadow of Mordor un bel gioco però non so se lo metterei tra i top di un anno capito tra l'altro Dark Souls 2 ha anche una scelta molto controverso nel 2016 ha vinto Overwatch nel 2016 ha vinto Overwatch il gioco dell'anno e poi il 2017 Breath of the Wild dove c'era però ha vinto Overwatch non è certo il 4 sì 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 beh ci sta no è giusto no non è giusto va bene va bene The Legend of Zelda 2017 e c'era anche Odyssey ovviamente sì e God of War tra l'altro guarda c'era Celeste nel 2018 quindi Red Dead Redemption 2 sì secondo te ci sta che vince God of War al posto di Red Dead Redemption 2 non lo so io non ho giocato Red Dead Redemption 2 l'ho visto l'ho provato però ho giocato God of War e a me non non sono un estimatore di quel God of War tanto che non ho ancora giocato Ragnarok non so se guarda siamo siamo sulla stessa barca per me è uno dei titoli più pretenziosi e sopravvalutati degli ultimi anni sì sì io penso lo sia veramente cioè senza lo so lo so probabilmente verrò odiato ora c'è ci cancellano il podcast sì sì c'è la sua parte taglio taglio la sua parte 2020 contro Animal Crossing Doom Eterna bellissimo Doom Eterna deve ancora giocare Goso Tsushima Goso Tsushima l'hai giocato sì sì l'ho droppato a tre quarti io l'ho platinato e l'ho al tempo stesso odiato no mi stava piacendo ma a un certo punto come tutti gli open world sono ho perso ho perso interesse perché poi io ho la mente che tende al completismo quindi quando mi vedo nelle mappe open world devo fare tutto ma nel momento in cui inizi a fare cento volte le stesse cose sempre perdi ti allontani dalla storia perdi perdi tutto Goso Tsushima è l'open world che mi ha fatto decidere di non giocare mai più gli open world a parte Zelda ma io non giocherò mai più open world dopo Goso Tsushima basta beh ci sta ci sta soprattutto se l'hai platinato ho deciso proprio che il mio tempo non vale di essere speso con un open world in generale a parte Zelda che Zelda è l'eccezione che conferma la regola no Zelda è un'avventura che sembra vera quindi sembra di viverla proprio in prima persona la ricetta in Clank Rift a parte nel 2021 tra l'altro grandissimo anno per platform action action adventure perché comunque Dread Psychonauts 2 l'hai giocato? no Psychonauts 2 no perché onestamente non io ho giocato il primo no ma perché l'hai giocato anni dopo la sua uscita? sì ho giocato qualche anno fa non l'ho neanche giocato mi dava noia non mi piaceva e quindi il 2 ancora non l'ho giocato però aspetto un'offerta che me lo faccia prendere senza spendere troppo proprio da poraccio però non è che un mattini tanto no no io ti consiglio di giocarlo è molto molto figo è molto figo poi vabbè magari ti fa cagare però una chance una chance gliela darei l'anno scorso c'è stato anche Stray che ti ha odiato io proprio odio quel gioco nonostante ami i gatti ma perché mi ha deluso tantissimo Stray è un gioco che quando inizia oh bello bellissimo gioco come un gatto poi diventa una puttanata incredibile secondo me Stray diventa una roba anche quella pretenziosissima sbrodolata ci sta mi ha proprio dato fastidio Stray peccato dovrebbe essere semplicemente un simulatore di gatto e diventa una roba ecologista la cosa che mi ha dato è che se il personaggio invece di essere un gatto fosse stato qualsiasi o altra cosa non cambiava niente e non va bene se mi fa un simulatore di gatto rendimi giustificata questa cosa ci sta ci sta però non lo so a me non ha infastidio più di tanto mi è piaciuto comunque il fatto che hai l'impressione di esplorare un contesto urbano e da un punto di vista che non è cioè hai proprio l'impressione che quel contesto urbano non sia stato costruito per te ma comunque riesci a muoverti in modo interessante molto laterale sì però ci sono tante scelte che proprio non me l'hanno fatto apprezzare per esempio il robottino che ti rompe le scatole non trovato tanto forzato per tante cose poi è chiaro graficamente era bello l'atmosfera c'era non è che fosse però è stato incensato in una maniera se non è che non aveva senza ci sta poi io sono ognuno no no vabbè ma ti ripeto non è di sicuro un capolavoro quindi ci sta come punto di vista capolavoro capolavoro assolutamente però vedi insomma ogni anno c'è sempre stato spazio per un po' l'outsider qual è l'outsider sarà Super Mario Wonder o Resident Evil 4 ma Resident Evil 4 però è un giocone assurdo eh no è vero però quindi te per te outsider intende proprio una cosa piccola che non c'entra niente quest'anno tu pensa pensa che comunque hanno omesso per esempio Starfield che ok magari però è un gioco su cui mediaticamente è stato tantissimo è stato capito e ha anche un senso di rappresentanza per tutto un ecosistema molto grande all'interno del gaming molto importante però è stato nominato fra gli RPG mi pare sì però insomma no non è però 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 sicuro Microsoft un po' ha fatto oh cazzo esatto quindi Super Mario Wonder è quello effettivamente minore fra tutti questi però ti ti rigiro un attimo la domanda allora probabilmente non vincerà il Godi e probabilmente neanche se lo merita se lo vai a vedere da una prospettiva proprio dell'industria in generale no ma secondo te proprio così a livello di gusti personali di quello che hai giocato quest'anno il Godi quale può essere? eh per me Zelda per me Zelda cioè chiaro io non ho giocato Baldur's Gate perché non è assolutamente il mio genere come importanza proprio a livello di storia dei videogiochi e tutto secondo me Zelda però è anche vero che Baldur's Gate da quello che ho letto ha comunque una grande importanza perché comunque è stato un gioco che ha dato ha avuto un impatto clamoroso tanto ho visto che il 2 era uscito tipo nel 2001 più di 20 anni quindi cioè non è che darei proprio non punterei tutto su Zelda potrebbe essere che alla fine vince proprio Baldur's Gate non mi sorprenderei tantissimo però gli altri non li vedo possibili cioè oddio Super Mario Wonder era una sorpresa sì ma Spider-Man non credo assolutamente resentivo per quanto sia importante tutto è pazzesco perché perché io io farei vincere tutti qua nel senso non ho giocato Alan Wake 2 l'hai giocato lo sto giocando proprio in questi giorni però qui ecco per esempio è uno di quei casi in cui io non posso scegliere con razionalmente perché sceglierei di cuore io qua ti adesso ti direi Alan Wake 2 gioco migliore ma io perché sono proprio un fanboy al 100% di Remedy che sono quelli di Max Payne Alan Wake eccetera eccetera io ci sono cresciuto con i loro giochi e questo questo è per quanto abbia 10.000 difetti 10.000 problemi eccetera eccetera è proprio quello che ho sempre sperato di vedere da un titolo da un titolo Remedy a tutte le cose che mi piacciono nonostante poi lo abbiano reso un survival horror puro è un gioco proprio horror che ti mette addosso un bel po' d'ansia che di solito a me queste cose non mi fanno non mi fanno impazzire però l'hanno fatto con una classe con una maestria e con dei guizzi di genialità che solo mi dispiace dirlo ma solo Remedy riesce riesce a dare per me sono tra gli ultimi autori di cui puoi proprio percepire la firma all'interno del mondo dei videogiochi cioè tolti i mostri sacri no? Miyamoto che tanto ormai fa solo film e parchi giochi sì Miyamoto ormai è stromesso da tutto Kojima insomma anche Weda Weda io spererei di vederlo al più presto perché mi manca proprio Weda io volevo sapere cosa sta facendo quello lì ci pensavo oggi verissimo cavolo speriamo magari anche ma Weda ma non credo non credo non lo so oddio forse forse si smuove qualcosa dalle parti di Playstation dopo cioè se io dovessi dire cos'è la cosa che aspetto più di tutto ancora più di Naughty Dog è proprio Weda il nuovo progetto di Weda davvero? così tanto? io per esempio Trico The Last Guardian non l'ho mai giocato ah c'è l'ho ma non l'ho mai giocato non l'ho mai giocato non l'ho mai giocato del capo giaponese no no io cioè in realtà io non sono neanche un grande stimatore delle robe giapponesi ma Weda con Shadow of the Colossus Ico lo dovrei rigiocare perché l'ho giocato tanti anni fa e soprattutto The Last Guardian io proprio mi ha aperto il cuore me l'ha calpestato me l'ha ripulito mi ha sputato poi me l'ha ripulito cioè è una roba mi ha colpito tantissimo proprio quell'immaginario lì quello stile quel modo di raccontare che non vedo l'ora di vederne altre cose che comunque è da 2016 che non non esce nulla di Weda tra poco sono dieci anni non so se ti ricordi tutta la storia di The Last Guardian sì una gestazione infilata nel 2008 infatti l'ho chiamato Trico perché all'inizio doveva essere si si doveva chiamare Trico cioè il nome in codice era Trico il nome in codice era Niko Niko New Iko sì Sì esatto vabbè scusa no però no 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 ci sta ma comunque poi è bello vedere che poi ognuno c'è i suoi feticci c'è i suoi i suoi fari nella notte io veramente per esempio sia Iko che Shadow of the Colossus mi hanno sono quei giochi che un po' ti cambiano la prospettiva proprio sul video eh ti restano tanto nonostante per esempio Shadow of the Colossus l'abbia giocato una volta sola mi è rimasto impresso in una maniera ah sì sì sentirebile eh e penso che cioè a me le stesse sensazioni ma completamente a caso me le hanno date tipo i primi Max Payne ah no i primi Max Payne ce li ho proprio impressi nel cervello e mi ricordo le citazioni i dialoghi quello però come si diceva prima dipende molto anche l'età in cui uno rigiona sì per esempio un gioco insospettabile che a me ha dato questo effetto è Beyond Good and Evil giocato nel 2003 bellissimo e quanto stai offrendo per il 2? in realtà io spero non esca mai perché sarà una cagata una cagata allucinante ormai la Ubisoft di oggi non è più quella di anche solo 10 anni fa ma ormai non ha più senso basta non lo fate più smettete di illudervi di illuderci e di buttare via soldi anche perché poi ne uscirebbe fuori un open world chiedi di un progetto ma secondo me anche dovessero fare proprio un progetto da capo richiamando Michel Ansel e facendolo fare a lui secondo me nemmeno lui ha più voglia di farlo bene come avrebbe potuto fare 15 anni fa è una roba figlia dei suoi tempi che doveva essere continuata entro il 2008 10 e ormai è tardi per quell'immaginario lì basta l'avete sprecato andiamo avanti tra l'altro ti confesso questa cosa giocato su Gamecube all'epoca mi sembra su Gamecube o su PS2 io su PS2 però mi sa che c'era anche su Gamecube non mi ricordo vabbè comunque l'ho giocato all'epoca ma non sono mai riuscito a battere il boss finale ti invertiva i comandi e a un certo punto avevo provato anche a rovesciare il controller io lo battei così rovesciando il controller non so perché era difficilissimo sì ora magari ripensando ci sembra una cosa stupida però all'epoca no è vero mi ricordo avevo cardiopalma proprio da quanto andava noia e io l'ho l'ho droppato là non so neanche come finisce perché non mi sa che non guardavo in non lo so all'epoca il finale in realtà è chiuso ma c'è alla fine dopo i titoli di coda una cosa che ti fa pensare che loro avevano già l'idea per il 2 cosa che però ti rendi sono 20 anni quest'anno sono 20 uscì nel 2003 20 anni non è mai uscito il 2 lasciamo sì no stendiamo lasciamo verde perché poi veramente un velo poroso un velo poroso però sembra ma a proposito di veli pelosi senti si compra o non si compra sta playstation portal dai qui voglio voglio fare questa cosa perché sono sicuro che sei nella mia stessa situazione se me l'avessero regalata l'avrei apprezzatissima ok la volevo comprare proprio anche perché ho detto vai ci faccio un video poi sono uscite le recensioni ho detto sì ma non vale la pena addirittura c'è chi sta lamentando il fatto che la recensione del wifi non sia proprio il massimo ci sono se ti allontani un po' dal modem la recensione non è cioè ti lagga non è una roba studiata bene secondo me è una roba che per quello che fa costa troppo e per quello che poteva fare costa poco quindi insomma è una roba che non ha senso doveva secondo me come ho detto anche nel video che ho fatto dovevano investirci un po' di più farla costare magari anche 50 o 100 euro di più e fare una console tipo il Logitech G Cloud G Hub come si chiama che però almeno ci fai tante cose così è una roba monca che dicono che sia di lusso ma non è di lusso non è un oggetto di lusso guarda a me l'unica cosa che mi fa proprio incazzare tantissimo è la cosa che non hanno messo il bluetooth e non puoi utilizzare le cuffie anche quella usare soltanto quelle dedicate della linea quelle che hai ti adesso le puoi usare nemmeno quelle nemmeno quelle sono proprio della linea playstation ma devi comprare le nuove earbuds che verranno commercializzate adesso che hanno un nuovo protocollo che è tipo bluetooth ma è proprietario che lo chiamano tipo playstation link una cosa del genere la Sony ha sempre fatto questi versi con la PSP le fece le memory stick grazie a quello nonostante la PSP fu un successo ma con le memory stick venne frenato la PSP è uguale le memory card l'ha uccisa quella cosa lì la PSP poi fece un UMD la Sony ce l'ha sempre anche con le videocamere con le videocamere c'era un formato proprietario XD Sony XD si 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 l'ha sempre fatto io non capisco perché Sony devo controllare ma perché ma stai buona ma diciamo che mi sa che un po' tutte le aziende giapponesi hanno questa cosa un po' del voler imporre il monopolio nel senso sono il più forte e quindi giocate sui miei cioè se volete entrare dovete particolarmente perché alla fine anche Nintendo è giapponese ma non ha mai fatto queste cose la Switch ha l'SD normali magari ha le porte proprietarie soprattutto anni fa ma ora con la Switch non si è azzardata a fare niente ha capito per esempio per quanto riguarda Nintendo è un discorso meno dal punto di vista del consumatore ma più a livello aziendale da publisher per esempio pubblicare sui supporti Nintendo quindi stampare su cartuccia o stampare su mini dischi o stampare sulle vecchie cartucce eccetera era sempre una cosa costosa super controllata ai tempi del Super Nintendo e del Nintendo tu non è che potevi dire vabbè faccio stampo 10.000 copie del mio gioco era Nintendo che ti imponiva decideva decideva lei sono tra virgolette perché poi è sbagliato umanizzare delle realtà così grandi però era anche per darsi tempi per darsi sia camion sì però guarda che alla fine so sempre un po' so sempre un po' poi quando gli va bene sì sì ci sta che sia la mentalità giapponese però Sony l'ho vista ogni volta hanno senso più che altro mi dirai dopo la la vita la Playstation vita che l'insuccesso è stato dettato proprio da scelte eh sì anacronistiche a quel punto Mari non lo so cioè stavo usando la Playstation Link per il bluetooth è veramente non ha senso non ha senso sì e poi mi stai dicendo che c'è la modalità aereo bellissima c'è la modalità aereo sì sì così per Magarte è bellissima sì sì secondo me è una di quelle cose imposte da qualche normativa europea internazionale che di sicuro un oggetto elettronico deve avere la modalità aereo perché sì però un oggetto del genere con la modalità aereo ma te lo tiri in vermuso veramente che senso ha che senso ha come non lo so veramente non lo so come se mi fai un telecomando con il tastino disattiva infrarossi cosa ci fa veramente me lo so non test va bene va bene oppure è stata una feature altamente richiesta proprio da Jim Ryan prima di andarsi ha detto ragazzi mettetela fatelo per me tutto quello che ho fatto per voi mamma mia mamma mia insomma secondo te sarà un successo questa PlayStation 4 no ti dirò di più per me ha proprio il fascino di una cosa uscita male di una cosa brutta e secondo me quando questo accrocchio così io penso secondo me è bella sinceramente esteticamente non è buono no no bruttissima mamma mia sembra proprio nel senso poi magari è comoda poi magari è funzionale ma da vedere mi sembra proprio un Megazord non è molto portati metticela nello zaino si lo trovi spaccato in tre quando no puoi ricomporre il controller dopo la messa sì sì però secondo me ha il fascino sì sì come per esempio la PlayStation TV ti ricordi no quel lettorino che leggeva i giochi della PS Vita che è stato il tentativo di sperato esalvare un po' tutto e quella tutte le revisioni tipo la PSP Go tutte quelle cose un po' strane no che di solito arrivano a fine ciclo vitale quando le provano un po' la PSP Street che non aveva il wifi bellissimo io subisco il fascino di queste cose e penso sempre sono quelle cose che adesso magari non vendono niente però magari fra fra dieci anni diventano pezzi da museo perché dici oh quella è la PlayStation Porta ti ricordi ne hanno vendute centomila in tutto in dieci anni sì però è anche vero che c'è un'isteria tale dietro al brand PlayStation e in generale ormai c'è molta poca informazione quando si tratta di acquisto compulsivo quando c'è un brand così forte dietro che secondo me non ti dico che ne vendono a pacchi ma ne vendono abbastanza per ah però guarda il fatto che su Amazon sia ancora comprabile senza che ci siano ritardi cioè te puoi andare ora tranquillamente su Amazon e la compri segno che non è andata proprio a ruba a ruba a ruba magari venderà certo ma non sarà forse io mi ricordo la PS5 io ho preso il day one su Amazon la guerra ho dovuto veramente ho visto il Vietnam beh sei stato molto fortuna non so se sei stato fortuna mi sono organizzato da hacker avevo fatto tutte le tab su browser coi botte che ti resettavano la pagina la devo prendere la devo prendere potevi diventare uno scalper praticamente era anche un mio amico a casa sua che anche lui faceva così col botte e tutto a distanza tipo di 10 secondi io l'ho preso a lui no erano finite è stata una roba proprio si sentiva per telefono è stata una roba di questioni di secondi guarda io me lo ricordo bene quel day one perché era il giorno del mio compleanno credo tre anni fa precisi mi pare era il 15 novembre 19 novembre sì sì era il tuo compleanno era il mio compleanno sì sì quindi ci siamo quasi e io ho avuto la fortuna che ho scoperto che il commesso di un Auronix non mi ricordo un troni era il fratello di la ragazza di uno dei miei migliori amici e io ho detto guarda io ti do ti do l'acconto ti do tutto quanto ti do la casa ti do la casa riesce a mettermene una da parte e lui quando ha fatto gli ordini in back end mi ha detto guarda c'è la possibilità di te la prenoto te la metto non l'hai presa su internet l'hai presa proprio sì sono andato poi a ritirarla dal vivo ho pensato adesso qualcuno mi aggredisce ed è la fine però è stata è stata una bella avventura pure quella e niente però non lo so questa quindi portal dici no no la proverei volentieri la proverei se calasse di prezzo ci potrei fare anche un pensierino solo che effettivamente è un oggetto limitato cioè se io vado sul treno non è che ci posso si posso fare l'hotspot ma ti immagini quanto va l'hotspot sul treno non è una roba secondo me doveva doveva avere qualcosa che permettesse di farci di vedere dei video anche quando sei qualcosa in più un utilizzo da non connessa diceva ok se non c'è la linea può fare questo una arcolatrice qualcosa un lettore sì sì è un lettore di musica niente niente un po' troppo estrema un po' troppo estrema ma vedrai che adesso adesso con la nuova la nuova direzione le cose cambieranno cambieranno se ci fai caso già sono cambiate vanno già cambiando nel senso che dall'addio di Ryan a poco tempo dopo subito i giochi PS5 sono diventati estremavili rimane sì hanno anche hanno anche comunicato che sei dei dodici live service su cui stanno lavorando l'hanno rimandato il tempo indefinito perché è un credo neanche un mese o forse poco più di un mese che Jim Ryan l'hanno perché è palese che l'ha ti dicono no lui doveva andare un pezzone gli pensava prende l'aria scorta i rochi totoki li ha bustano la parte e poi già il fatto che hanno detto nel primo anno fino ad aprile i rochi totoki mi pare si chiama così affiancherà Jim Ryan ok un giorno dopo è sparito tutte le comunicazioni le fa i rochi totoki allora allora è chiaro che sono tutte cose di facciata perché devono preservare gli investitori il parere proprio del pubblico della stampa è palesemente stato sigurato comunque va bene va bene va bene senti io direi che siamo arrivati alla conclusione di questo io mi sono divertito molto è stato super super divertente ma chi vince Game of War sono te non lo so ti direi che potrebbe esserci siccome poi il voto è sempre un po' sul colpo di scena secondo me Baldur's Gate 3 diciamo che quello Zelda ma mi puccia eh sì perché sa molto di premio speciale per la novità inaspettata però è anche vero questo che se vogliono dare proprio il colpo di scena pazzesco Jeff Keighley e un po' l'entourage dei Game Awards sono molto molto amici e strafissati con i prodotti Remedy tra l'altro alla Noi 2 l'hanno presentato la prima volta ai Game Awards di due anni fa secondo me comunque e soprattutto conta anche questo è un titolo fresco è un titolo che adesso ha molto hype intorno perché ne stanno parlando tutti quanti bene rispetto a uno Zelda che è uscito a maggio rispetto a un Baldur's Gate che è uscito qualche sì però comunque c'è più la percezione di una cosa che è presente capito quello potrebbe Mario World però non credo non me l'aspetto assolutamente vincitore non lo so il vero colpo di scena potrebbe essere Alan Wake 2 ma proprio non ci scommetterai sopra però sarebbe una cosa io sarei molto felice il motivo per cui io guardo i Game Awards ogni anno è semplicemente per gli annunci ormai a me poi tutte queste prime azioni io voglio gli annunci ora dovrebbero presentare GTA 6 scherzo non ci sarà niente tutto questo resteremo in giro come ogni anno mai dire mai mai dire Mario mai dire Mario esatto mi hai rubato le parole alla bocca e sono felicissimo che hai detto questa stronzata perché è esattamente quello che hai detto possiamo chiudere possiamo chiudere qui adesso va bene ti ringrazio tantissimo grazie a te seguite ovunque ti possano seguire ma non sotto casa quindi non lo so cercatelo su youtube il canale 0dx soltanto 0dx giusto si chiamarti Enrico 0dx ma in realtà 0dx no no 0dx è base cioè una volta si chiamava Enrico 0dx poi la chiamava 0dx è base io so vecchia guardia te l'ho detto e niente insomma youtube twitch le fai ancora live su twitch le alterni a molto meno però le faccio ancora le faccio anche su youtube per esempio Mario Wonder l'ho stimato tutto su youtube che così rimaneva lì bello 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 dai va bene basta dai molto piacere ci vediamo presto ci vediamo presto e vedremo soprattutto come andranno a finire dei game awards e vedremo se uno di noi due avrà una playstation portal tra i miei mani vediamo forse Babbo Natale Jim Ryan vestito a Babbo Natale va bene ciao Enrico grazie ciao 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 a tutti ciao ehi 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 fermo se questo tipo di video ti piace prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul porion il patreon dei poracci con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione di video qua sul canale e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto come retroscena anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retro game ti lascio il link in descrizione e ricordati che poracci si diventa a Grazie a tutti